Il 12 giugno è stato un giorno durissimo per la famiglia Pasini di Azzano San Paolo nella provincia di Bergamo. Fabio, marito e papà di tre bambine, morto improvvisamente per un attacco cardiaco e purtroppo quando sono arrivati i soccorsi era già tutto inutile. La nascita di una bambina con disabilità, una figlia, ammalatasi di leucemia poche settimane di vita, la disoccupazione durante il covid e per ultimo un tumore, poi rivelatosi benigno, della moglie che ha dovuto superare una neurochirurgia invasiva pochi mesi fa, ancora oggi in convalescenza. Di tutte queste sfide Fabio e la moglie erano capaci di ridere. Ha scritto Nicole Miglio, la nipote che ha deciso di avviare una raccolta su GoFoundMe a supporto dei familiari.